connesso molto sorveteiros che non collocano, per esempio, amalto d'estrina in sorvecci, che lavorano colocando succo come frutta naturale in sorvecci, azucar saccarosi solo, tipo 250, 260, 270 grammi di azucar e poi liga neutra, cioè fai un sorvezzo con questi tre ingredienti, e l'acqua, se precisi. Ora, diciamo che non è il mio, non è il mio stile, ma non sono fan di fare sorvecci prendendo solido solo azucar, perché? Perché generalmente è un sorvecci molto dolce, ma quando si comincia a usare anche la dextrosi per diminuire un po' il dolce del suo sorvecci, hai praticamente accontese che vai faltando al solido, perché se utilizzando la dextrosi diminui la saccarosi e automaticamente faltarà al solido. Ora, io consiglio sempre di collocare, specialmente in sorveo, un po' di inulina, che è il famoso fetter replace, però intendo anche che la inulina non è facile di incontrare e, all'individuo, è cara, è un prodotto abbastanza caro da amaltodestrina o da glucosico. Potremmo usare, in qualche tipo di sorve, amaltodestrina, che è ricca di carboidrati complexi, da una struttura, diciamo, abbastanza buona, sorvecci, e potremmo usare in qualche tipo di sorve, na verdade.